Le scarpe rotte Io ho le scarpe rotte, e l'amica con la quale vivo in questo momento ha le scarpe rotte anche lei. Stando insieme parliamo spesso di scarpe. Se le parlo del tempo in cui sarò una vecchia scrittrice famosa, lei subito mi chiede «Che scarpe avrai?». Allora le dico che avrò delle scarpe di camoscio verde, con una gran fibbia d'oro da un lato. Io appartengo a una famiglia dove tutti hanno scarpe solide e sane. Mia madre anzi ha dovuto far fare un armadietto apposta per tenerci le scarpe. Tante paia ne aveva. Quando torno fra loro, levano alte grida di sdegno e di dolore alla vista delle mie scarpe. Ma io so che anche con le scarpe rotte si può vivere. Nel periodo tedesco ero sola qui a Roma, e non avevo che un solo paio di scarpe. Se le avessi date al cazzolaio avrei dovuto stare due o tre giorni a letto, e questo non mi era possibile. Così continuai a portarle, e per giunta pioveva. Le sentivo sfasciarsi lentamente, farsi molli ed informi, e sentivo il freddo del selciato sotto le piante dei piedi. È per questo che anche ora ho sempre le scarpe rotte, perché mi ricordo di quelle, e non mi sembrano poi tanto rotte al confronto. E se ho del denaro preferisco spenderlo altrimenti, perché le scarpe non mi appaiono più come qualcosa di molto essenziale. Ero stata viziata dalla vita di prima, sempre circondata da un affetto tenero e vigile. Ma quell'anno qui a Roma fui sola per la prima volta, e per questo Roma mi è cara. Sebbene carica di storia per me, carica di ricordi angosciosi, poche ore dolci. Anche la mia amica ha le scarpe rotte, e per questo stiamo bene insieme. La mia amica non ha nessuno che la rimproveri per le scalpe che porta. Ha soltanto un fratello che vive in campagna, e gira con degli stivali da cacciatore. Lei e io sappiamo quello che succede quando piove, e le gambe sono nude e bagnate, e nelle scarpe entra l'acqua. E allora c'è quel piccolo rumore a ogni passo, quella specie di sciacquettivo. La mia amica ha un viso pallido e maschio, e fuma in un bocchino nero. Quando la vidi per la prima volta, seduta a un tavolo, con gli occhiali cerchiati di tartaruga, e il suo viso misterioso e sdegnoso, col bocchino nero fra i denti, e sai che pareva un generale cinese. Allora non lo sapevo che aveva le scarpe rotte, lo seppi più tardi. Noi ci conosciamo soltanto da pochi mesi, ma è come se fossero tanti anni. La mia amica non ha figli, io invece ho dei figli, e per lei questo è strano. Non li ha mai veduti se non in fotografia, perché stanno in provincia con mia madre. E anche questo fra noi è stranissimo, che lei non abbia mai veduto i miei figli. In un certo senso lei non ha problemi, può cedere alla tentazione di buttare la vita ai cani. Io invece non posso. I miei figli dunque vivono con mia madre, e non hanno le scarpe rotte finora. Ma come saranno da uomini? Voglio dire, che scarpe avranno da uomini? Quale via sceglieranno per i loro passi? Decideranno di escludere dai loro desideri tutto quel che è piacevole ma non necessario, o affermeranno che ogni cosa è necessaria, e che l'uomo ha il diritto di avere ai piedi delle scarpe solide e sane. Con la mia amica discorriamo a lungo di questo, e di come sarà il mondo allora, quando io sarò una vecchia scrittrice famosa. E lei girerà per il mondo con uno zaino in spalla, come un vecchio generale cinese. E i miei figli andranno per la loro strada, con le scarpe sane e solide ai piedi, ed il passo fermo di chi non rinunzia, o con le scarpe rotte ed il passo largo e indolente di chissà quello che non è necessario. Qualche volta noi combiniamo dei matrimoni fra i miei figli e i figli di suo fratello, quello che gira per la campagna con gli estivali da cacciatore. Discorriamo così fino a notte alta e beviamo del tè nero e amaro. Abbiamo un materasso e un letto, e ogni sera facciamo a pari e dispari chi di noi due deve dormire nel letto. Al mattino quando ci alziamo, le nostre scarpe rotte ci aspettano sul tappeto. La mia amica qualche volta dice che è stufa di lavorare, che vorrebbe buttare la vita ai cani. Vorrebbe chiudersi in un abetto e la bere tutti i suoi risparmi, oppure mettersi al letto e non pensare più a niente. E lasciare che vengano a levarle il gas e la luce, e lasciare che tutto vada alla deriva piano piano. Dice che lo farà quando io sarò partita. Perché la nostra vita comune durerà poco. Presto io partirò e tornerò da mia madre e dai miei figli in una casa dove non mi sarà permesso di portare le scarpe rotte. Mia madre si prenderà cura di me, mi impedirà di usare degli spilli invece che dei bottoni e di scrivere fino a notte alta. E io a mia volta mi prenderò cura dei miei figli, vincendo la tentazione di buttare la vita ai cani. Tornerò ad essere grave materna, come sempre mi avviene quando sono con loro. Una persona diversa da ora. Una persona che la mia amica non conosce affatto. Guarderò l'orologio e terrò conto del tempo. Vigile ed attento ad ogni cosa. E baderò che i miei figli abbiano i piedi sempre asciutti e caldi, perché so che è così che deve essere, se appena è possibile. Almeno nell'infanzia. Forse anzi, per imparare poi a camminare con le scarpe rotte è bene avere i piedi asciutti e caldi quando si è bambini. Grazie.